bentornati nel video precedente abbiamo visto come formattare un disco esterno in file system fat 32 in questo video invece vedremo come formattare un disco esterno nel formato ntfs new technology file system questo file system nasce negli anni 90 da microsoft sviluppato da microsoft ed oggi attualmente è il formato più utilizzato non solo della microsoft ma direi al mondo dato che il sistema più utilizzato al mondo è windows quindi l'importanza di ciò che ne deriva dal capire questo tipo di formato ed effettuare delle operazioni per quanto riguarda la predisposizione per alcune operazioni a cominciare da quella di un'installazione di un sistema operativo si riesce a capire l'importanza di questo video per chi diciamo ovviamente aspira a questo ambiente cominciamo dal menu principale qualsiasi versione di windows penso che sappiate almeno aprire il menu e dalla casella di testo cerca programmi e file digitiamo cmd clicchiamo invio ed ecco il nostro terminale tranne che per windows 8 più o meno è molto simile l'apertura del cmd perché in windows 8 bisognava andare bisogna andare con la punta del mouse in alto qui su bordo destro per aprire il pannello principale poi in circa cmd ovviamente vi sono modalità diverse di accesso io vi ho solo elencate quelle più semplici bene adesso individuiamo il disco sul quale effettuare la formattazione per non combinare casini vedete qui il disco fisso e qui il disco che voglio formattare l'etichetta che lo identifica e netcwork unità g adesso che abbiamo tutti i dati possiamo operare da terminale digitiamo il comando format spazio barra laterale e poi fs che sta per file system due punti ntfs spazio di nuovo barra laterale vi due punti assegniamo nome alla nostra unità per distinguerla prova poi spazio barra laterale nuovamente q che sta per quickly quickly in inglese scusate il mio inglese e poi di nuovo spazio e digitiamo l'unità da formattare l'unità era la g come abbiamo visto poi due punti e clicchiamo invio vedete che il terminale ci chiede di inserire un disco nell'unità g ma siccome noi già lo abbiamo inserito premiamo invio abbiamo utilizzato il formato la formattazione è veloce con la q che abbiamo inserito qui prima dell'unità disco per non allungare ulteriormente i tempi del video vediamo cosa accade nelle retrovie vedete qui il disco già ha cambiato l'etichetta e adesso il disco è formattato nel file system da noi desiderato io vi ringrazio per la visione vi invito a lasciare un like vi invito ad iscrivervi al canale e noi ci risentiamo nel prossimo video ciao 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 ciao